quando vuoi fai iniziare primo tiro non è buono secondo tiro fuori attende che mi schiaccio il piede l'altezza anche al limite il suo tiro tutti al limite tutti al limite ma nessun centro quanto tiro è buono anche in altezza vediamo questo vediamo il cielo più centri che fa questo decisamente no 6 tiri ha fatto Antonio quindi 4 latini a disposizione ha fatto già due centri buono questo è buono sì ok in altezza 3 centri per la primavera quanto è il massimo? questo non va voglio un giro guarda già stanno a piangere bravo cazzo bravo cazzo ed è il quinto che ce la fa ce la fa ampiamente ampiamente mi sembra mi sembra fuori dubbio la vittoria in questo gioco di una primavera Z.it 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 bravo saluta 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 bella bella squadra